Ma io vi posso dire come sto io, oggi sto un po' raffreddato perché ho anche un abbassamento di voce in anticipo ancora alla partita, quindi c'è da preoccuparsi. Ale sta bene, si è allenato bene tutta la settimana come fa di solito, come sempre. Lo vedo molto sereno, molto carico, voglioso, quindi molta serenità da parte sua, da parte di tutto l'ambiente. Io devo pensare da allenatore, quindi l'allenatore deve pensare al discorso umano, deve pensare soprattutto a un discorso tecnico e da parte mia non cambia assolutamente niente nel rapporto con Alessandro, perché lui sa benissimo, abbiamo un rapporto molto sincero, molto diretto, io parlo spesso con lui. Ci ho anche parlato e gli ho ribadito che da parte mia non cambierà assolutamente niente, perché con lui io ragionerò sempre da un punto di vista tecnico, quindi lui sa benissimo che il minutaggio che gli do, che può essere di 0 minuti, 15 minuti, 25 minuti, 90 minuti, 95, dipende esclusivamente da quello che vedo sul campo, dalle condizioni sue, da quello che ci può dare e sono contento quando Del Piero mi entra agli ultimi 20-25 minuti e può essere determinante, significa che ho visto bene e che ho fatto la sostituzione giusta. Ma sappiamo di affrontare un avversario che secondo me è molto forte tecnicamente, ha degli ottimi giocatori, era partito molto bene in campionato, perché era in testa alla classifica con noi, poi ha avuto due battute d'arresto consecutive contro il Verona a Chievo e a Parma, ha ripreso il cammino con il Lecce, quindi ci aspettiamo sicuramente un avversario comunque forte, però è inevitabile che chi affronta la Juventus sicuramente farà sempre una partita di grandissima attenzione, di grandissima concentrazione, quindi noi questo lo dobbiamo sapere. Ci deve anche riempire di soddisfazione questo fatto, perché significa che comunque le squadre hanno iniziato di nuovo a rispettarci, questa è la cosa importante.